Saluto gli amici della rete, siamo a fine campagna elettorale, il mio impegno e la concretezza sono dimostrato dai fatti che ho cercato di attuare con programmi sul territorio. Recentemente è anche un provvedimento per il territorio del Basso Molise, per Termoli, per un finanziamento da concedere ai pesci ventoli che sono rimasti chiusi nel periodo del fermo pesca. Altri impegni sono stati sempre per l'area della fascia adriatica per approvare la legge che prevede la non possibilità di fare perforazioni nel mare adriatico per la ricerca di idrocarburi. Quindi chiedo un voto per la mia attività di consigliere regionale, svolta sempre con tanta passione e concretezza. Il voto del 24 e 25 febbraio va dato a Progetto Molise, barrando il simbolo di Progetto Molise, scrivendo Romagnolo.